Buongiorno dalla redazione giovedì 14 marzo con una lettera congiunta afferma Ignazio Messina, Fabio Termine e tutti i sindaci e presidenti dei consigli comunali della provincia di Agrigento sono stati invitati lunedì 25 marzo alle ore 16 nell'aula consigliare del comune di Sciacca per concordare iniziative da assumere dopo la manifestazione dello scorso 6 marzo sulle Terme. Con la loro riapertura scrivono Termine e Messina nel loro invito si potrebbe dare alla città di Sciacca e a tutto il territorio provinciale il giusto sviluppo economico e turistico. L'assessore regionale alle politiche agricole Luca San Martino ha ceduto alle pressioni degli agricoltori e degli allevatori del Belice che da settimane chiedono la sua presenza al presidio Gulfa sarà in quel luogo mercoledì 20 marzo alle ore 10 e 30. Ieri comunque l'esponente del governo regionale per parlare di agricoltura nel territorio ha ricevuto a Palermo i sindaci del Belice. Buone notizie per il mondo dell'agricoltura del comprensorio riberese in crisi per la siccità. Il sindaco Matteo Ruvolo ha annunciato che il dirigente regionale dell'assessorato agricoltura Dario Cartabellotta accogliendo un'istanza del prefetto di Agrigento a cui i sindaci del comprensorio si erano rivolti ha avviato le verifiche tecniche per arrivare a travassare parte dell'acqua del Gammauta alla diga Castello. L'aggiunta regionale su proposta del presidente Renato Schifani ha approvato lo stato di crisi e di emergenza del settore idrico potabile fino al 31 dicembre per le province di Agrigento, Catanissetta, Enna, Messina, Palermo e Trapani. Contestualmente ha nominato il segretario generale delle autorità di Bacino Leonardo Santoro commissario delegato con l'incarico di individuare e attuare tutte le misure necessarie per superare questa fase critica. Sabrina Fine e Massimo Carandente erano al telefono con qualcuno mentre si stava compiendo la strage nella villetta di Altevilla Milano. La rivelazione, se fosse vero e confermato ciò che ha raccontato Giovanni Barreca al suo avvocato durante un colloquio, potrebbe aprire nuovi inquietanti scenari sugli omicidi di Antonella Salamone, dei figli Kevin ed Emanuel. La svolta potrebbe arrivare dall'esame dei tabulati e della cella dei telefonini di tutti gli indagati. Sciacca parcheggiava l'auto nell'area di sosta di Piazza Rossi e per non pagare opponeva sul croscotto un foglio con la scritta auto in avaria. Questa la furbata che da tempo metteva in atto un dipendente del comune di Sciacca scoperto dalla polizia municipale. L'auto rimaneva parcheggiata per l'intera durata dell'orario di lavoro ma lo stratagemma non poteva naturalmente durare a lungo. Gli agenti hanno fatto controlli e verifichi e scoperto infine l'illegale accorgimento. Il responsabile è stato denunciato e sanzionato con numerosi verbali per violazioni al codice della strada. 9 anni e 3 mesi di carcere per Giovanni Loppino, l'uomo che avrebbe accompagnato almeno una cinquantina di volte alla clinica Maddalena di Palermo, Matteo Messina Dianaro, latitante per quasi 30 anni. Loppino si era difeso sostenendo di non conoscere la sua vera identità e di aver agito per motivi umanitari. Secondo la procura avrebbe pure imposto il pizzo a diversi imprenditori tra paresi. E' tutto per questa mattina, restate con noi per le altre notizie. Buona giornata. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.